Bella a tutti ragazzi, bentornati sempre qui su B-Square Gaming Siamo sempre qui con Dishonored, dobbiamo fare una marea di roba in Dishonored Che la metà bastano, quindi forza e coraggio, agguantiamo i nostri poteri E andiamo all'arembaggio di quello che sarà poi il gioco Va bene, allora ritorniamo al nostro joystick Eccoci qua, parla Siamo pronti? Yes! Mi avvicinerò il più possibile Bene ragazzi, allora io vi dico che mi devo staccare per 30 secondi perché devo aprire la porta d'ingresso e bere un bicchier d'acqua Però nel mentre vi ricordo qua in alto ci potete seguire su primo o secondo canale Abilitando le notifiche su primo o secondo canale Twitter, Twitch con una qualcosa di più internazionale Facebook che è sempre lì E naturalmente ragazzi, Telegram, Telegram avete sia il gruppo che il canale Chi è l'uomo che cerco? Aramis Stilton Un alleato del vecchio duca, Stilton ha contribuito a modernizzare Carnaca con le miniere d'argento Ha iniziato come minatore e col tempo è diventato un principe dell'industria Ora il nuovo duca sprona ai minatori notte e giorno La polvere non si posa mai nel distretto La prosperità è divenuta rovina Immagino che al duca non importi finché può bere da coppe d'argento E di cosa sono fatte le coppe della torre di Dunwall, imperatrice? Comunque dovrei attraversare il distretto delle polveri per raggiungere la casa di Stilton Forse è ancora lì, o forse è morto E' bello perché c'è scritto Dust District Quindi sopra il Mining District c'è scritto, lo vedete qui, il distretto della polvere Ragazzi salutiamo la splendida Lady Hug Oh boy, Chris, Michele, il buon Angelone Finucanone Vi dicevo, chi, e lo ridirò più tardi Chi non è ancora su Telegram ragazzi, unitevi su Telegram assolutamente Del tè Mi sembra proprio un bel posto per prendere il tè ragazzi Questo è il rush di Dishonored, come sapete io adoro Dishonored Ole Ma perché ogni tanto salta? Cominciamo già col cuore Ragazzi alcuni di voi me l'han chiesto Il cuore serve per trovare le rune, nel caso ve lo siate dimenticati E gli amuleti, quindi Forza Sto cercando di sentire Ok, va bene, allora si stanno lamentando Ogni tanto salta e io continuo a capire Non capisco perché, ma va bene lo stesso Non mi faccio più domande Oh bene, perfetto Big money, questo serve assolutamente Continuo a fare brum Sono stufo di togliermi polvere d'argento dalle orecchie Cazzarola Cominciamo già a cazzatura così Non lo so ragazzi A sto giro sono un po' combattuto Sì dai, cominciamo a cazzo duro Abbiamo trovato quel robo non a caso Facciamo una bella hipnose Eh sì, cari miei Polvere delle miniere Come polvere delle miniere? Che roba è? No, dai Cosa è sta roba? Filamenti conduttivi Oh, basta saltare Cazzo, mi dà una noia Potrò salire da qua Vaffan bagno Ok, vediamo se possiamo saltare da qualche altra parte Tipo Lì C'è un pulsante Dai Che cosa fa questa roba? Perfetto Questo si può prendere, no? Un cazzo La mela però ci aiuta Vabbè ma vaffan bagno A questo punto consumiamole Chissà frega No Ce l'abbiamo Basta saltare Ma che cazzo fa? Si ha preso a saltare Guarda Non può saltare lì, vero? No E allora mi sa che lì non posso Non posso andare Ok Che strada pigliamo ragazzi Perché lì ci sono ben tre guardie Ma che è successo? Ma che è successo? Forse Spero di no Ok No Posso arrivare solo fino a lì? Quindi Quindi Se ne ho due E gliene do uno Io ho ancora uno Se lo mangio No E se lo mangio E se lo mangio lì Ehi Cosa cazzo Hai sentito? Pensavo di avermi Che succede qui? Qui Non Figa 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 Sono solo tre Mamma mia Sono solo tre Sono solo tre Bastava entrare di qui Che coglione che sono Ciupa Allora secondo me qua c'è qualcosa C'è il cuore che continua a battere Eccola lì la runa Eccola lì Qui c'è qualcuno È una taglia sulla testa di Byrne E il vice sacerdote vuole Paolo morto Salve Emily La casa di Stilton è qui dietro Sono andata in ricognizione Ho parlato con la gente I sacerdoti e gli urlanti Hanno diviso il distretto Lì avanti è territorio neutrale Dove nessuno vi infastidirà Procedendo oltre invece Gli urlanti e i sacerdoti Hanno stabilito dei confini Oltre quei punti Vi attaccheranno a vista E come faccio a capire quale sono? Sokolov Dice che hai un'idea Sokolov Sì, credo che se ucciderete Paolo O il vice sacerdote Byrne Gli altri vi lasceranno passare E vi aiuteranno a entrare in casa di Stilton Neutralizzatene uno E portatelo dal suo nemico Hai altre informazioni utili? Byrne è protetto dai sacerdoti Paolo ha gli urlanti Ma credo che abbia anche una protezione Di magia nera Dicono che per morire Debba essere ucciso due volte Prima del tramonto Buona fortuna Ciao Ok, vediamo qua dentro Allora, la runa è lì, no? Qui c'è qualche cos'altro Basta saltare, mamma mia Che menata Come ci arrivo là sotto? Ok, non da qui, suppongo Allora, da dove minchia ci arrivo? Secondo me è da lì No, non parlare cuore maledetto Ma che? Naturalmente non si mette lì Si butta di sotto Mi pare giusto Mi pare estremamente giusto Maledetti Ok, io devo prendere Non ha capito nulla questa qua Io devo prendere Mettete in pausa Leggete Migliorerò le condizioni di lavoro Dei minatori Ci serve l'argento Ma non a questo prezzo Oh, a questo punto scendo Scusate dall'altra parte L'unica cosa è che lì Siamo già in territorio ostile Maledizione Quindi come faccio? Allora, vediamo un po' O forse no Ok, va bene ragazzi Siamo di nuovo qui Adesso dobbiamo cercare Ancora con questi saltini Ma lo vedete che cosa fa? Già, vi pare normale? Maledizione Ok Come faccio ad entrare qua dentro? Eccoci qua Lo sapevo io Lo sapevo io Che dentro tutto sto cesso Dov'è? 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 Lo so che c'è un'altra luna lì Perfetto Mia Tra l'altro qui è pieno di robe È pieno di robe Ok So che quello che ho visto Qua sopra non si può andare Ok Ok Qui non c'è niente Possiamo andare sopra a sto punto Maledetti Avete rotto le palle Ok Qui si può aprire Non si può aprire Mannaggia Altre cose utili I dardi da balestra Ce le ho già Mannaggia Ai pesci rossi Qui sembra tutto Tutto estremamente bello Perfetto Abbiamo trovato la strada Oh mica tanto Adesso dove cacchio andiamo? Proviamo di lì Ok Ok Quello è un infetto Figga ragazzi Che amarezza È che è circondato Vedete Non ce la potete fare Qui c'è per caso Qualche modo Di andare sopra Ok Sta andando via Oh cazzo Ma ho già visto È proprio un infetto Maledizione Intanto leggiamo Scusate Lady Hug Per quanto è preso Ero presa dal gioco Stavo per bruciare il pranzo Vado a mangiare E ritorno Ciao a tutti Ciao Patrick Ciao a tutti Fra Ho appena mangiato il cocco Beato te Ciao Zeus Iniziata da quanto? Da poco Da poco Dai Levati dalle valle Vediamo se c'è qualcosa Però perché ho paura Temo per il peggio C'è una runa 33 metri Da quella parte Quindi io temo Ti debba passare Abbastanza sopra Il problema Qual è? Dai vieni verso di qua Tasta Le manche Dov'è la runa? Dov'è la runa? Dove cazzo è la runa? Runa Ok 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 Aspetta 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 Territorio ostile Un altro E' qua sotto la runa Ma perché fa così? Cioè tipo Non l'han digerito Qual è il problema? Non ti girare Non ti girare Urlante Incosciente Saccheggia Dieci monete Queste cose però Possono essere utili Per scappare Da una parte all'altra Allora Qua c'è una runa Quindi dobbiamo Assolutamente aprire Sbircia Naturalmente appena aprirò Cazzo C'è qualcuno qua Vero? Questo è il locale di Paolo Olè Ciao Dragon Mondragon Forse te lo stai chiedendo Ma Paolo non è uno di quei folli puntisti Che crede che gli concederò favori Se lascia una bella offerta O se suona le giuste note musicali Non gli importa nulla di me Ma Ha eretto questo tempio Dove aver trovato la mano Di una vecchia strega Che un tempo conoscevo Paolo ha capito subito Che conviene avere Un lasso nella manica A volte Parte di noi Restano Anche dopo la morte Il duca di Serkonos Ha ereditato La città piena di vita E non ha esitato Un secondo A spremerla Cosa si lascerà Alle spalle E tu Invece Che lascerai qui Nel gioiello del sud A raccogliere i gocci Belle domande Avrei in mente una folta lista di persone Da lasciare lì Però vabbè Eh Ok 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 quindi questo è Paolo Eh Leggete e mettete in pausa Dardi balestra A posto così Dust district Hai capito il Paolo Come sta bene Come si fa di big money qua Ok 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 vediamo un attimo Non fuori Ok Questo non fa una Allora Consegna un capo O l'altro E quali Faccio decidere a voi Abbiamo qui Paolo Trova un altro modo Per ottenere la soluzione Al lucchetto Di Gindosh Senza aiutare Cerca gli indizi Cerca gli indizi A Cronand A Cronand Salon E l'avamposto E Gli indizi Ok Ok Bo Ragazzi Come vogliamo fare Perché Cioè Anche aiutare Sti stronzi A me non sembra Buono No Però Qui c'è Paolo E lì Ce l'avamposto Dei Non so Andiamo avanti così Allora Qui Credo di aver visto Qualcosa Di sospetto Ok A posto così Poi andiamo anche sopra Dai E la C'è nessuno Non farmi cercare Dappertutto Eh Cara mia Monete Ci mancherebbe Anche Toh Dai qui Col tuo socio Ok Quindi qua È impossibile Andare in giro Dovremmo avere Ispezionato Tutta l'area Si spera Quindi dai Andiamo giù Sì Ci vorrebbe L'occhio Infallibile Però L'occhio Infallibile Il problema È Ora Adesso Piano piano Ne abbiamo presi due Non possono essere Ovunque Guardiamo bene Ma quali indizi Di quali indizi Parla Cioè A me non sembra Aspetta Apri Perché questo Boh Boh Ragazzi Non ci sto a capire Niente Ok Questo è Paolo No Giusto No Questo non è Paolo Portiamolo sopra Insieme agli altri Questo qui Scusate Scusate ragazzi Lo so che voi Probabilmente preferireste L'approccio Brutta Eva E ogni tanto Succede che C'è l'approccio Brutta Eva Però Però Diciamo che Tendenzialmente Da preferire L'approccio Soft Ok Anche tu qua Olè Voglio fare una pila Di 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 Gente che dorme Qui che c'è Monelli Volevate Allora Qui poi tra l'altro Si può andare ancora più In basso Ma Per il momento Focalizziamoci Sui piani alti E che Paolo Figuriamoci Ok Piano Piano Ok Questo sta ballando Quindi per il momento È distratto Merda Soltanto che Fare fuori tutti Quelli Non è Anche Neutralizzarli Non è proprio facile Ok Intanto Vediamo qui Che cosa c'è Proprio perché Fanno così Ok Apriamo questa porta Intanto leggiamo un attimo Usa il fuoco Master Ciao ragazzi Come il fuoco Salve chat Ciao dragon Ciao una pietra Ciao Patrick Cosa intendi Così mi piace Allora facciamo così B E voilà Come nuovo Apriamo le finestre Perché non si sa mai Qualora Dovessi Rientrare È meglio avere le finestre Aperte Visto che spesso Volentieri sono chiuse All'interno Sì però C'è qualche indizio No Non c'è neanche Un indizio È uscito x Ok x Era questo Qui non vedo nulla Andiamo sotto A questo punto Speriamo che non ci sia Trappa gente Perché più gente c'è Più è burdel Ok Va bene così Qui c'è qualcosa da Cioè non capisco quali Dovrebbero essere gli indizi Mannaggia Anche perché non ne vedo Voi vedete indizi No Quindi l'unica È procedere È avvicinarsi Al nostro obiettivo Ok Pistola Non serve Ok Quanto che cazzo è questo È lì Quindi c'è un piano di sotto Immagino No No 80 metri Ok non è il nostro Quanti sono 1 2 3 4 Allora 1 2 3 4 Sono già i nemici I nostri nemici I nostri nemici Sono già troppi rispetto a quelli Che possiamo Impinatizzare Quindi Quindi il problema è Il problema è Che O facciamo quel 3 lì Però ne abbiamo 9 ragazzi Oh Con 9 Un'altra cosa che possiamo fare è Collega Allora leggiamo 2 bersagli Anche questo è utile Ragazzi Sono un po' combattuto Sono un po' combattuto Perché Fa dominio Lega Vi leggo Contro le api Sì ma non ho Dardi incendiari Da spercare Purtroppo se vedete Non ne ho tanti Anzi penso di non averne Adesso Comunque dopo lo guardiamo Dominio collega 2 bersagli umani Finchè il potere attivo Qualsiasi azione compiuta Su uno dei bersagli Collegati Da effetto Di entrambi Ad esempio Potrai neutralizzare Rapidamente più nemici Usando un singolo d'arto Narcotizzante Cazzo ragazzi Questa è definitiva Però eh Riducendo così Il rischio d'allarme Oppure in caso di Ho deciso Perfetto Dove va? Va su Amico Hai appena Hai appena Affirmato La tua condanna A morte Ma non lo sai Ancora Dai Capitana Muro di merda Chi si è allarmato? Hai sentito qualcosa Laggiù? Devo Contro Hai sentito? Uccidilo D'accordo? Sì Porca vacca Tutti Tutti Vabbè Vabbè Zitti Zitti Porca Caccia La misera Ma quindi Chi ho ucciso? Quindi Di fatto Mi è sfuggito Cioè Cioè Non posso Addormentarlo Magari Averlo Saputo Prima Poteva Davvero Servirmi Porca Caccia Vacca Mamma mia Che palle Quando succedono Ste cose Credi di essere Un genio Ti troverò Quanti sono E che il problema È che il problema è Ma porco il cazzo Ma dirmelo Che non può essere Tipo Cioè Addormentato Mi sembra un'informazione Che non Cioè Non voglio dire Ma Mi serve un goccio Per sacquare via Tutta la polvere Di ieri notte Lui è qui No? E questi Da dove sono Spuntati? Vabbè Dai Visto che Ok Ok Vabbè ragazzi Ma cosa Paolo aveva una mano mummificata Qui tutto è sospetto Anche i ratti Sono sospetti Dovrai gridare Quando li vedo Mamma mia Aspetta Guarda Ma figa Credo che la sua testa Valga una fortuna Vediamo cosa sai fare Via Per l'obbligo Lontizzati Raga Ok Mi sento Ole Oh 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 Ok Cioè guarda dove cazzo erano Chiusi nello sgabuzzino Ma vai a dare via i chap Guarda Vabbè usciamo da sto posto Certo che correre con Paolo Sopra la spalla Vabbè Era meglio non uccidere nessuno Però sapete che vi dico E vaffanbagno Non ho trovato neanche un indizio Avessi trovato un indizio Ma ne sarei fottuto Dove devo portarli Là Ok Come faccio portarli là Tipo lì Dai figa Lì Ok Perfetto Intanto vediamo se ci sono altri Raga Ok FedeCore Ciao Bella Fra Tornato Mi sono perso Nelle Ha detto niente Ciao Master Mi saluti Ciao Fede Salve a tutti Niente spam Bravo Ok Adesso devo Devo Tornare da quelle parti E Dov'è Dov'è che è la base Raga Non vedo più la base Degli illuminati Lì Come cazzo si chiamano Dei Dei Pantofolai Ok 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 Siamo fin qui Ok Ok Dov'è che posso lasciarlo Dai Ok 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 Hai idea Del bene che hai fatto Con Paolo fuori gioco Grandi piani Per Karnaca Ho sentito parlare di te E delle tue ambizioni Vice sacerdote Verne Ma per me Sono soltanto un mezzo L'abbazia si ricorda Dei suoi amici Sì E anche dei nostri nemici Che cosa vuoi Devo entrare nell'abitazione di Stilton Una richiesta piuttosto curiosa C'è qualcosa di sbagliato in casa di Stilton In effetti mi preoccupa alquanto Devo sapere cos'è successo lì Aiutami e ne ricaverai altri benefici A causa del duca Abbiamo perso la nostra posizione Qui a Karnaca Da allora lottiamo Per preservare le strade Dall'eretico Paolo Ma tu hai fermato Il suo cuore oscuro E per questo Ti darò ciò che vuoi Ti ascolto Interrogando uno degli urlanti Abbiamo scoperto Che alcuni di loro Sanno come aprire Il lucchetto di Gindosh Per entrare da Stilton Probabilmente solo Paolo E pochi fidati Quello che cerchi È probabilmente il motivo Per cui il duca Ha ordinato a Kiring Gindosh Di sigillare la casa D'accordo allora Questa potrebbe essere La visita più utile All'abazia Non dimenticherò il tuo aiuto Vice sacerdote Burn Neanch'io Assassino Portate via questa persona Oila Grandissimo Ciao Spero che troverai Ciò che cerchi Allora Aspetta Prima di raccoglierlo Se mi vede raccoglierla Mi uccide Allora L'abitazione di Stilton È maledetta Fai attenzione Va bene Le costrizioni Non porta a nulla di buono Solo follia E Riorco Ho capito Ho capito Intanto Mi ha aperto questa porta Sarà stato il vento Qui non è che mi fanno fuori No Dovei essere tra alleati Ok Sì Ottimo Quindi le rune Dovrei prenderle tutte Qua sopra c'è qualche altra runa No Qui sotto però c'è una runa Cioè cerchiamo di spugnare Come direbbe qualcuno No Dobbiamo spugnare tutto Cazzo Per una volta che ci possiamo muovere Indisturbati C'è un cazzo Eh vabbè Ragazzi Cioè Dal È stato un po' in posto Paolo D'altronde io volevo addormentarlo Per prendere tempo Così non è stato Come faccio a entrare di qui Chiave delle confische Ufficio confische necessarie Chi ce le ha? Chi ha la chiave? Perché ti nascondi sotto la maschera? Per il simbolo dell'esterno? E dove la trovo la chiave? Dove la trovo la chiave? La chiave Io qui non vedo nessuna chiave Togo Chiave Chiave Figa Qui forse è ancora più difficile entrare Quindi forse è andata meglio così Cioè poi non voglio Allora B Ok 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 Voi che ne dite? Ho fatto male 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 Mi fido anche di voi Mi serve sta cazzo di chiave Me la volete dare? Ma scusate Ma non ho preso una chiave sopra? Figa La troverò sta chiave L'abbazia fa un bel lavoro Solo gli alleati dell'esterno devono temerci C'hai tu la chiave? No Lui non ce l'ha la chiave Dai raga la chiave mi serve Oh Qualcuno Dai apri testa di minchia Altre robe? Questo Ok Grazie mille Va bene Ma dove devo andare ragazzi? C'è una bella distinzione Tra uno sguardo di sfuggita E lo sguardo pagante Ok Mangiamo Ragazzi sto Voi avete capito dove devo andare? Io mica l'ho capito Hai visto il nostro lavoro Col tempo Le isole saranno libere da streconeria Tica io sono uno di questi Vabbè comunque Ok Adesso però mi sfugge davvero dove dobbiamo andare Allora Consegna Apri il lucchetto di Jindosh Nasconde l'indicatore Dovrebbe esserci l'indicatore Io l'indicatore non lo vedo Voi lo vedete Ragazzi scherzo a parte Ehi ma chi ti credi di essere? Ma cacci Ok Dai attaccami Dai attaccami Adesso vi faccio vedere io cosa faccio Riconosco un agente dell'esterno Quando lo vedo Vole Vabbè Speriamo che questo non l'ho fatto io Quindi perché dovrebbero punire me No Non dovrebbero punirmi no Adesso devo trovare il modo di Qui secondo me c'è una runa Ragazzi voi l'avete visto La quantità è iniziata Puoi leggerlo in cima alla descrizione comunque Hai fatto bene Sì E dall'altra parte rispetto E scusa E non me lo poteva far vedere subito Ok Qui c'è qualcosa per forza C'è nessuno Non farmi cercare dappertutto Non ho tempo per queste cose Ok Oh Io devo ancora capire Devo potenziarmi Perché non ho spazio per il momento Ma va bene lo stesso Voilà C'è qualcuno che mi ha parlato Vorrei sapere da dove Mo' cerchiamo Piano 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 Bella queste case Mi piace un casino Girare per queste case C'è praticamente non ho fatto nulla Si sono ammazzati da soli Non posso Scusate Anzi lo vediamo subito Salva partita Sì Vediamo un po' Chaos ridotto Ok Siamo a posto C'è finchè non lo uccido io Scusa Non vedo perché dovrebbero Dare a me la penalità Cosa c'è qui dentro Hmm Tubi Ma cos'è? In quale casa siamo finiti? Boh A volte certe cose non si capiscono Ma va bene così C'è un po' di mistero Allora usciamo da sto posto Allora abbiamo detto Che l'indicazione Mi dici dove siamo Ok Ma dove devo andare Lì c'è il dentista Quasi quasi ci andrei solo per dare un'occhiata Nel mentre che speriamo di Di arrivare a una retta via C'è un'altra casa lì ragazzi Ma qui è un mondo da esplorare Mannaggia Mannaggia mi sto emozionando No Dentista è chiuso Cosa vuol dire che il dentista è chiuso? Sblocchiamo sta porta Ah beh Sicuro di sapere quello che fai Ho studiato tattica con fratello Cardosa sulla penisola Minchia fratello Cardosa ne sa Hai ragione C'è un cazzo da fare Siamo in pochi oggi eh Lo so Ma è anche sabato pomeriggio Io non è Che pretendo i miracoli Diciamo magari mi sarei Mi sarei aspettato qualcosa di più Mettiamola così Fica Questi avevano anche i cani Meno male che non mi sono messo contro di loro Ok Io però Ho capito Va bene così Vaffan bagno Vicovalla Mi dici dovevo andare Mannaccia Ma gli anziani a cui deve andare saranno morti tra un mese Che ne dici di condividere qualche moneta? Non lascerò mai questa luce Paolo So cosa fa per me Per tutti noi Esatto Ci manda a rischiare la vita per te Ma non mi sembri molto grata Mamma mia Chissà qual è la combinazione Tutto bloccato Che vita amara Mannaggia 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 Perché Ok Adesso t'ammazzo E adesso chi schiaccia chi? Perché è cosciente? Non ci ho capito veramente una bega Ma va bene lo stesso Dai Allora Dai che voglio Non ti chiederò per chi lavori Servo entrambe le fazioni Progetti si sbloccano due nuovi potenziamenti Granata adesiva Fulmina catena Ok Potenziamenti Vediamo un attimino Ho dei progetti per il tuo equipaggiamento Allora Dardo Dardo che addormenta un nemico dopo qualche istante Direi Potenziamento ignoto Ok Sono Sono quelle carte che sbloccate voi Allora Cerchiamo di Uno Prendere un po' di tutto Mappa della villa di Stilton Ma si Piliamolo Piliamo un paio di questi E un altro Dardo narcotizzante Dai Chi se ne frega Crepi l'avarezia Granata Mina stordente Se solo potessi vendere polvere Sarai mica Piliamolo un altro Vai Un altro ancora Crepi L'avarezia Sì Che bello La mia banca è differente Sembra un po' così Ok Quindi devo ritornare Da dove sono venuto No minchia Minchia Porca troia Perché ti copri la faccia Torna qui Non scappare Credi che nasconderti il voglio Ti rende temi Minchia Che palle Cazzo Adesso Narco Sto aspettando Non ha funzionato un cazzo Quindi direi A questo punto Via Adesso Piano piano Me la pagherete Stronzi Anche tu Ragazzi Si è difficile Comunque E sto giocando A livello facile Non oso immaginare Cosa sia A giocarlo A livello difficile Te lo dico proprio Super honestly Saccheggia Ma basta Rompere i coglioni Dai A parte che non sono un cadavere Perché cadavere? Incosciente Non ho ucciso nullo Incosciente 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 Top Dai apri Ok Signora Weasel Diamante Scusate Signora Diamante Ok Poi Baronessa Finch Ciondolo alato Un momento Qual è il ciondolo alato? Ok Poi Dottoressa Marcolla Anello Poi Signora Natsui Porta Tabacco Che è quello No? E' un portatabacco Si facciamo di si Contessa Conte Cimelio di guerra Che cos'è un cimelio di guerra? Oh yeah Siamo pochi oggi Master ci sono io Tranquillo Allora sto 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 Qui diverso non letale. Sono stato sgamato 23 volte. A posto così. Un nemico ucciso che poi è Paolo. Mannaggia. Io l'avrei tipo stordito. Non l'avrei neanche ucciso io. L'avrei dato ai... Come si chiama? Ai sacerdoti? Fatene quello che volete. E cippalippa. Ok. Dai che ci siamo. Ci siamo. Manca poco. Manca poco. Il tempo è una cosa strana. Crescendo ero emozionata all'idea del mio futuro. Dei luoghi che avrei visitato. Ricordo momenti della gioventù con mia madre sul trono. E mio padre avvolto nel mistero. Ricordo la peste. La morte di mia madre. E ciò che è successo al Lound Pits Pub. E ora questo. Voglio solo porre fine al regno di Delilah. E salvare mio padre. Questa casa cela i segreti di Delilah. È risorta dalle ceneri, prendendo l'impero e cambiandolo a proprio piacimento. Manipolando il duca Luca Abele ha trasformato un viziato dilettante in un cospiratore che l'aiutata a prendere il mio trono. Si è resa immortale e persino la spada di mio padre non ha potuto ucciderla. Riparerò a tutto quello che ha fatto. E la prossima volta terrò più strette le cose a cui tengo. Puoi dirlo forte come le donne. Non hai le abilità diverse dal corvo a Tano. A Tano mi sembra che fosse. Non a Tano ma non sono sicuro. Quindi... E' come se questo luogo mi prosciugasse. Intanto non c'è un cazzo di nessuno. Meglio. Allora. Sono sicuri di voler passare dalla porta principale? Dust District. Eccoci. Quindi andiamo a prendere la runa. Andiamo a comandare! Con la runa in tangenziale. Raga scusate ma ho veramente necessità di rune. Mi sembra abbandonata però non vorrei cantare vittorie troppo presto. Dov'è cavolo è? Ma come? Mi pareva fosse troppo facile. Quando nessuno pulisce e asciuga le stanze la casa va in manura. Eh. Che bello. In effetti non mi sembra proprio il posto dove... Dove... Proprio quei posti che uno dice bello, no? C'è una runa di là. Hanno pure infestato la casa. Mannaggia. Allora, andiamo piano perché abbiamo appena scoperto che la casa è infestata. Ci sono delle balene giù nelle miniere. Le sento cantare tra loro. Ma quindi cosa facciamo? Allora. Meglio l'approccio sta. Qualcosa di sbagliato qui. Anche l'aria sembra diversa. Riprenditi, Stilton. Riscalda le coltri, eh? Sì. Tre anni fa qualcosa in Aramis Stilton si è impunto come un lucchetto da quattro soldi. Parte di lui e parte di questa casa sono rimaste qui la sera. Il circolo del duca si ritrova ancora qui. Per elaborare grandi piani. I piani di Delilah. Sai, una parte di Aramis Stilton è ancora qui. Ed è ancora a pezzi. L'oblio non è esattamente un luogo. È molto più antico e strano di quanto si possa pensare. Ti osserva da dentro. E nel cuore della casa di Stilton, l'oblio fuoriesce da un foro lasciato lì dal piccolo trucco di Delilah. Persino la magia viene distorta lì. E le cose non funzionano come dovrebbero. Ok. Ciao Jack Skeleton, Andrea Delilah. Sì, lo sapevo che era oggi che continua. Andrea, lo continuerò. Ma fai finire questo che mi preme un pochettino di più. Cerca il duca e di Delilah. Guarda tu stesso cosa hanno fatto. Ok. Il duca sarà una notte fredda. Viaggio nel tempo. Oddio. Usa il giratempo per spostarti tra presente e passato. Premi LT per cambiare. Sembra quello di Titanfall. Il flusso temporale. Premi X per chiudere le lenti e osservare un altro flusso. Per l'oblio. I tuoi ospiti l'attendono nello studio. Il duca vuole dei rinfreschi e io non posso entrare senza la combinazione. C'è una nota, Capitano Windelborn. Cosa? È fuori. Mi serve il codice per lo studio. È nel suo taccuino, ma lo tiene sempre con sé. Grazie, caporale. A dirla tutta non mi piacciono gli ospiti di Stilton. Prima, la curatrice reale mi ha fatto una scenata. Come si chiama? Ti riferisci a Brianna Ashworth, presumo. Sì, proprio lei. È una strana. Comunque, ottimo lavoro. Grazie, Capitano. Ok. L'unica via d'uscita è attraverso il presente, usando questo giratempo. Ok. E quindi dove vado? Qui non posso passare, no? E allora passiamo da sopra. Cazzo, ecco perché non posso... Il tempo fuori esce dalle pareti. Rovina i tappeti. Come faccio? Come faccio uscire? Ah, ora mi è chiaro. Scusate. Dov'è il giratempo? Giratempo. Monete futuristiche. Stilton aveva una bella casa prima di... Quello che è successo. Sinceramente, perché Stilton cerca... Ok. Top. Minchia se mi sto gasando questa roba dello... Con Timon spazio temporale. Ok. Il problema è che... Mi vedono se... Immagino che non mi funziona il potere. Ok, non mi funziona proprio. È ufficiale, va bene. Non è in alcune parti della casa. È ovunque. Mannaggia. Sto morendo. Ragazzi, nerdare fa male. Quindi. E quindi... Come faccio? Ok. Ok. Perfetto. Succhiare. Ok. Che è successo? Sono un po' spaventato questo qua, vero? Guarda, stanno guardando in giro. Ah, ah, ah. Minchia, ma... Cioè, sono... Ma quanti anni è? Cioè, se... Boh. Mi chiedo come sia possibile ridurre una casa così... In così poco tempo. Ok. 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 Non me la raccoglie, maledizione. Ole. Andiamo avanti così. Qui c'è il cavo. Cazzo è il ritratto di Dorian Gray? Vabbè. E allora sapete che vi dico? Ole. Allora. Ma porca miseria. Ok. B. Mio. Allora. Fernando. Bla, bla, bla. Mettete in pausa. Jack Skeleton Master. Mi sta facendo venire voglia di acquistare Dishonored. Come va con il mini NES? Ragazzi, ci gioco poco per i miei gusti. No, fermo. Non volevo. No, adesso mi rompo la coglioni. E andiamo indietro nel tempo. Pam. Potrei riuscire ad aggirarlo tornando indietro nel passato. E come faccio? Ok. Questo non me lo fa. Apposto così. Come faccio? Eh, perché comunque va da... Vedete, la stanza è bloccata. Ora mi è venuto in mente, mannaggia, ai pesci rossi. Vediamo un po', eh. Oh. Certo che sto facendo tutto quello che... Brown mi diceva di non fare. Ma va bene lo stesso. Minchia, ragazzi. Mi sto cacchando addosso. Qui c'è qualcosa di prezioso, no? Ma era abbastanza accatastata così anche all'epoca, se guardate bene. Ok, qui c'è qualcosa. No, no. Non c'è niente. Va bene, andiamo avanti. Dopo un po' mi viene mal di testa se sta roba. Cosa? Ok. Ole. Merda. Non va, eh. Che succede? Oh, santo cielo. Aspetta, eh. Perché sono un po' curioso. Quindi chiudi. Chiudi. Ok, dovrebbe averlo distrutto, però. Ok, forse il mio presente è aperta. Sblocca, non si sa mai. Piliamo tutto. Zac, zac. Ole. Va bene. Andiamo dietro. Ho tolto l'infezione. Incredibile. Due, tre, otto. Ole. Micchia. Che storia. Due. Figa quanto mi piacciono ste robe del viaggio temporale. Tre. Di Biosheak Infinite era spettacolare, ragazzi. E vai. Mia. 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 Mia, mia, mia. Ok, direi che possiamo andare... Invieto nel tempo. Andiamo piano, piano. Piano. Oddio, c'è l'infetto. Ok. Fia. Fia. Aiuto. Non so se i cani sono meglio. Stai zitto. Stai zitto. Devo andarmene. Piano piano, eh, ragazzi. Ci arriviamo lì. Leggi. Attenzione a non toccare il balcone. In questo stato potrebbe cadere da un momento all'altro. Il balcone. Non lo devo toccare, eh. Ma. Ma. Scusa, perché non cade? Mannaggia i pesci rossi. Non cade. Proviamo ad andare un po' indietro nel tempo? Vai. Oggi Stilton era davvero strano. Fissava il vuoto. Non credo che il duca e Stilton siano in buoni rapporti. Oggi sembra diverso. Stilton sembra spaventato. Attento, non hanno ancora riparato la balconata. Se quei supporti si rompono, potrei non riuscire a tenerti su con quel culone. Conto su di lei, signora. Sarebbe romantico. Beh, io... Cazzo. Cazzo. Allora, fermi tutti. Ok, direi che per me è uno. Ok, va bene. Cioè, ma perché la deve tipo distruggere, cioè, l'intero palazzo? Cioè, non bastava tipo adagiarla per terra? No, no. Allora, usiamo i... Ok, rimettiamoci sta roba qui. Se è sfasciato. Top. Top. Ragazzi, ma cosa volete di più della vita? Un lucano? Ok. Che che m'ha visto? Porcaccia. Mannaggia. Minchia, guardi ovunque, cazzo. Lì c'è una porta. Vediamo se il cuore ci dà qualche cosa nelle vicinanze. No, sembrerebbe di no. C'è una runa lì. Però, eh... Vabbè. Sbirciamo. Ok, qui... Oddio, l'infetto. Adesso, allora... Il giratempo. Quindi, magari ce la possiamo pure fare. Ok. 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 Merda, allora, aspetta qui. Usiamo un dardo. Dai, dai. Dormi. Ok. Passiamo da qui, che dovrebbe essere a posto. Ragazzi, vi state annoiando? Che schiaffo. Master, devi usare la balestra. Ah, l'ho leccio adesso. Il centro deve essere vicino. Il giratempo. Allora, vediamo un po'. Serve la combinazione dello studio di Stilton. 4, 2, 9. Aspetta un po'. C'erano tanti soldati qui che potevano vedere. Sì. Fica, è un casino. Combinazione 4, 2, 9. Ve lo segnate, per favore? Allora, adesso. Proviamo qui, bene. Proviamo, eh. Piano piano. Questo lo accogliamo. Questo lo accogliamo. Oh, cazzo. Porca droga. Sono tutti accattati. Taci, signora. Come vi ho sempre detto. Oh, gay. Dardo narcotizzante, grazie a Dio ci sei tu. Va bene. Com'è qua? Vediamo se ci sono guardie nell'imminente che mi possono vedere. Direi di no. Io capisco tutto. Dai, chiamiamola. Dai, piano piano. Ma vedete che... Vabbè, è una casa... Boh. Aveva un sacco di problemi. Cos'era quel rumore? Piano superiore. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Fatta una cagata, ragazzi. Che non posso vedere. Perché? Qui lo posso usare, però. Attenzione. Qui lo posso assolutamente... No, no. Merda vacca. Ok. Sbatti senza potere, eh. Cacchierola. Ok. Come si fa? Qual è il bottino? Questo lo chiamo il bottino? Non può uscire dall'acqua. Non può salire, no? No, è troppo idiota. Oh, merda! Ok. quindi qua c'è già dell'acqua che ok fighi raga è un dramma però ok ragazzi sto facendo occhio che i topi mordano master mi sembra molto più figo del primo dice il buon il buon fede company figa sono caduto di sotto un povero idiota oh merda di nuovo qui non mi spugnerà non vai da nessuna parte ok ritorniamo su va bene quindi ritorniamo di qua ho capito ancora che cazzo dobbiamo fare mannaggia poteva succedere qualcosa di peggiore di questo però noi abbiamo una granata attenzione quindi sono fiducioso questo dà un sacco di soldi bene soldi 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 adesso ritorniamo col gira tempo e vediamo un po' com'è la situazione figa sono dappertutto però che cazzo fa come faccio secondo me qua devo fare una serie di giochi di prestige non indifferenti cioè adesso questo si gira vai girati lì non c'è nessuno no dai su girati figa che fastidio e vai l'hanno reso più difficile del primo ma nì nel senso sì però anche il primo magari siamo abituati a vederlo e quindi ci sembra tutto estremamente semplice però anche la prima volta che avevate giocato al primo diciamo non era proprio così rapido in dolore poi sono d'accordo con voi ok vediamo cerchiamo un po' di vedere ole si è allarmato si caro mio è una ficata sta roba però c'è un cazzo da fare allora vediamo un po' chi non lascia la pistola mangiamo mangiamo ma ti rendi conto e quindi coi soldi dell'imperatrice questo qui si si difendeva cioè capito cioè questo che poi ci ha tradito usava i nostri big money già questo sarebbe nel mondo ideale di fra una pena di morte istantanea penso proprio senza neanche giudizio ok mangiamo un po' va bene così così come direbbe qualcuno qui che è ok eccolo là stilton allora diamo un'occhiata perché sono curioso di vedere attualmente c'è un cane maledetto due cani maledetti e basta quindi tre cani maledetti aspetta vediamo esattamente quanti cani maledetti ci sono ah non posso usare i miei poteri chiamarena chiamarena quindi quando scendo scendo eh c'è un cazzo da fare possiamo fare così sto pensando eh ragazzi perché sto pensando qual è la strategia più allora qui ci possiamo parlare ci possiamo passare dopo ci sono altre o che le addormento sti cani è che i cani valgono come gli esseri umani ora non nella realtà dico qua dentro cioè se li uccido l'hanno reso più difficile se ti uccido aspetta vediamo come l'hanno passato lì very big money ok una guardia lì una guardia lì una guardia lì caccia misera dai proviamo adesso devo sciupare vieni di qua vieni di qua dai dove sei dove sei dove sei dorme per sempre vero dormi 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 tenerina dormi dormi tenerina dove era la guardia canterina che brutti cani figa guarda qui quante guardie adesso le stendo tutte con i viaggi temporali temporali dai cazzo cazzo c'è pure la guardia lì però basta non si spostano più sono inamovibili tre voi Anna tre dai vattene ok buttalo qui ole via figa è top sta roba cazzo allora qui ce n'è uno già che ci siamo andiamo da questi qua dai che adesso si gira subito tu ti girerai subito adesso dove ti ficco ti ficco qua ok via indietro nel tempo quindi questo poi fa il giro di là poi c'è quell'ultima guardia lì e siamo a posto qui non c'è nessun altro no mi sembra di no siamo tutto a paura dai ne mancano due su quella lì la la narcotizziamo è top e abbiamo il nostro caro amico tutto per i nostri fauci l'ha reso più difficile il povero cane ma infatti li ho addormentati i cani dopo eh ragazzi potete dire tutto ma che sia stato più animalista e che ne sapevo che potevano essere addormentati dai questo sigaro dai girati dai che so che te ne vuoi andare di là dai vai di là mi preparo già vai di là guarda che brutto che sei siete tutti uguali dai allora qui ti vuoi mettere eh voilà vieni con me se vuoi vivere ti metto qua con il tuo socio almeno non ti annoi vediamo se si vede il cadavere no sono spariti quindi sono sopravvissuti adesso tu ti fai un bel sonnellino che ne dici aspetta che viaggi un po' indietro aiuto lascia di stare aiuto qualcuno che amica ecco cosa hai ottenuto per non esserti opposto al duca e quindi uccidendo Stilton ho modificato il passato ma cosa cambierà figa hai rotto il continuum spazio temporale hai fatto la peggiore cazzata che tu potessi fare forse potevamo salvarlo potevo salvarlo se no aspetta se no lo facciamo ok ok dov'era indaga sulla comp porca troia però noi non l'abbiamo salvato no 12.09 è quello più scusate 15.09 dai proviamo 15.09 secondo me è qui sì dai 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 no un cazzo eh vabbè ragazzi che vi devo dire che vi devo dire boh speriamo di aver fatto bene d'altronde questo correva che cazzo facevo cioè non potevo fare nulla c'è anche il multiplayer no lì single player sì ragazzi è un gioco old style c'ho una voglia di gelato non potete nemmeno immaginare oltre che una voglia di bere bevi dove siamo? ok qui dove sono le guardie casa in vendita è attualmente in vendita ok ci sono ancora delle mele ma infinecotti ma adesso non è in rovina oh cazzo topi topi che compenetrano pareti ma quindi ragazzi cioè possiamo andarcene no non ho capito ci da un indicatore ancora qui non capisco dove andiamo un po' a vedere comunque la chiave non eh la chiave la casa non è ancora in rovina è abbandonata ma non così tanto in rovina ancora ci da lì eh non entrare lo studio deve rimanere chiuso ok qui sembra che le cose peggiorino i due tempi si sovrappongono in qualche modo non avrei mai dovuto mantenerlo soltanto perché lui e mio padre erano amici stiamo per fare ciò che non è mai stato tentato è oltre la mia comprensione e di certo oltre la vostra se qualcuno ha dei dubbi li metto da parte tutto questo sfida ogni logica razionale appartiene all'abile confine tra la filosofia naturale e qualcos'altro hai capito testi monelli sei tutta spiritica vabbè sono qui tornata dal freddo dall'eternità evviva curioso sembra che abbia funzionato ora il mio spirito è al sicuro qui dentro Luca devi metterlo in un posto protetto temevo ti avessimo perso Brianna Luca non vi abbandonerò mai ti nascondi ma io so chi sei so da dove provieni sei qui per assistere al mio ritorno e un giorno verrò a cercarti gli spengo tutte le luci gli spengo tutto ok quindi questo è un loop continuo no capiamo da dove da dove vengono quanto sono stati stronze adesso me ne posso andare perché adesso non lo sblocca più come faccio ad andare di lì quindi dovevo per forza stare assistere a un altro giro oppure per di qua ok sei qui per assistere al mio ritorno e un giorno verrò a cercarti ok ancora che due palle che devo fa per le stelle adesso me lo apri cazzo no che devo fare ragazzi voi avete un'interpretazione credo che si sia ancora intrappolato ma corvo che fine ha fatto topi top cacchio certo non capisco ora il mio spirito è al sicuro qui dentro luca devi metterlo in un posto protetto e mi votevessimo verso oriana luca non ti abbandonerò mai basta hai rotto i coglioni ti nascondi ma io so chi sei so da dove sei qui per assistere al mio ritorno e un giorno ce l'ho a cercarti basta però eh mo basta raga voi avete capito che devo fare è la quinta volta che me lo dici basta ragazze scusate qualcuno mi sa dire che devo fa spegnere tutto è l'unica cosa che mi viene in mente ho spento tutte le candele altre cose che devo fare ragazzi ok mo ho spento tutte le candele no ragazzi hai una mano raga avete qualche interpretazione per caso no basta è baggato basta hai rutto il cazzo ti nascondi ma io so chi sei so da dove provieni sei qui per assistere al mio ritorno e un giorno come faccio a spegnerlo ragazzi rompere la porta no non si può a spegnerlo avvertite il suo potere che abbia funzionato raga come faccio a spegnerlo che non c'è niente dai ragazzi mi state trollando porcaccia ma quale porta senti io mi metto in mezzo a sto giro ti nascondi ma io so chi sei mi metto basta parlare sei qui per assistere al mio ritorno e un giorno verrò a cercarti secondo me è un bug io non voglio essere assistente lo so che però di solito quando si ripete così concentratevi sull'obligio oltre il mondo avvertite il suo potere vero? per le stelle è più eccitante di tutte le orge a cui ho partecipato raga non spegni il trono qual è il trono? non c'è il trono non c'è spegni ora il mio spirito è al sicuro il trono devi metterlo in un posto raga mi stai trollando doc maledetti basta voglio uscire da questa cosa hai fatto come dottor strange mi hai chiuso in un loop e ma come cazzo faccio uscire raga davvero guarda fede se mi stai trollando raga qualcuno lo sa sembra che abbia funzionato ma che devo fare raga raga qualcuno l'ha capito aspetta ti nascondi ma io so sentite io provo a ricaricare perché cioè mi deve cioè quando vai in loop così è proviamo cerco su internet mamma mia lascia la villa vedete che l'obiettivo è lascia la villa no ok lasciamo la villa vai a fare in culo c'era il pulsante va fai va bambagno voi l'avevate visto il pulsante mamma mia quando succedono ste cose veramente mi mi ci incazzo ok via ole fede se è un pirla porca c'è la misera guarda te lo dico di cuore mamma mia il trono deve spegnere il trono trono di spade ti dico io dove cavolo è il trono ce l'ho ce l'ho uno proprio di là se vuoi te lo faccio vedere vai dai che ci siamo dai dai guardati attorno un'isola in ruvina ai confini stessi dell'oblio ma questa è speciale è il luogo in cui mi tagliarono la gola 4.000 anni fa la mia vita si è conclusa qui ed è qui che è ricominciata dove sono stato ricreato questa parte dell'oblio sembra più vecchia fin dalla fine ho creduto che avrei trovato il modo di scappare ho lottato ma le foni mi tagliavano le carni e poi il coltello si è posato sulla mia gola e ho capito di aver aspettato troppo è sgorgato il sangue e sono divenuto un dio ora conosci il segreto di Delilah al termine dei suoi giorni ha vagato nell'ublio avrebbe dovuto perdersi per sempre ma possiede grande volontà e ingegno ha trovato questo luogo l'isola dell'oblio in cui sono diventato ciò che sono questo l'ha cambiata ha scoperto un modo di sfruttarne il potere Delilah ora è parte di me e questo non mi piace ok eh vabbè Delilah è stata molto furba ha strappato via un pezzo di sé e l'ha nascosto in un oggetto fatto d'ossa è divenuta immortale se vuoi uccidere Delilah dovrai trovare il suo spirito e riportarglielo raggiungerlo non sarà facile ma ciò che verrà dopo potrebbe essere la cosa più difficile della tua vita ok il mondo è più misterioso di quanto credessi puoi dirlo forte per esempio il successo di Favij Ares grande, mitico basti ambientazione da Darkstone dell'esterno fra a livello grafico è un po' migliorato secondo me si hanno aumentato i dettagli grafici e tutto poi naturalmente Dishonored non fa parte di quei giochi dalla grafica strepitosa e poi ha questo stile qua che c'è qualcuno che sta male ora non mi resta che incontrare Sokolov sulla barca che strana giornata a posto così vediamo un po' se riusciamo ok ok quante rune abbiamo? diamo un'occhiata abbiamo quattro rune quindi mannaggia vai giù potremmo collegarne quattro o potremmo addirittura e vabbè dai aspettiamo ragazzi ma chi è che è impazzito cosa è stato? aiuterò nella ricerca oh santo cielo non mi aveva mica visto dai non sono dell'umore giusto fatti vedere non puoi nasconderti per sempre no già non ho tempo di giocare ti ho visto non serve nascondersi eh sì eh sì dai corri via corro vai che ce la facciamo 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 hai ragione Sokolov voglio partire ma quindi adesso dobbiamo trovare questa cosa l'ambientazione possiamo andare bene o pene come diceva Cicciolina allora uccisione totali una che è stato il mio target allarme scattate individuazioni meno dai guarda lì guarda lì non letare furtività e poi voi vi lamentate no ma se ci fosse stato Fede e Company avrebbe finito il gioco con una sola individuazione mamma mia ragazzi non siete mai contenti no mi sembra molto sulla falsariga del primo questo questo disonored quindi come fanno piacere se ti è piaciuto il primo palazzo originale di Karnaca per costruire una struttura così sontuosa che il suo costo potrebbe nutrire la gente di Serkono speranne si dice sia una tenuta così grande da superare tutte le altre un monumento al suo ego e al suo titolo ciò che ha fatto il duca a questa nazione è successo mentre ero imperatrice ad Anual guardavamo dall'altra parte purché continuasse ad arrivare l'argento devo entrare nel gran palazzo occuparmi del duca e trovare il modo di rubare l'anima di Delilah ok sveglia ciò facciamo ok vai dai tuoi alleati immagino non sono qua non sono qua allora sono sopra vediamo un po' iniziamo il briefing al chiaro di luna allora pronti ho visto una decina di castelli e un centinaio di ville e sono uguali dappertutto il palazzo del duca non può essere peggiore dei pomeriggi sociali di Lady Brisbane fermare il duca Belle è solo una parte dell'enigma dovrete anche scoprire cosa custodisce per Delilah il tuo racconto su ciò che hai visto a casa di Stilton è stato criptico il che mi sta bene il mondo è migliore con un po' di mistero ma una volta al gran palazzo le tue azioni cambieranno il futuro di Karnaka per gli anni a venire ricordatelo vedrò cosa fare so che la situazione di Karnaka è fragile e dovrò rifletterci bene quando sarà tutto finito ok quindi pigliamo il via quindi non è che ci sono rune che mi mi trollano sono qua sotto ok usa dai ragazzi l'anima e fede e company stigio che ammazza tutti non fa stealth ma come dai ma perché va fatto stealth un gioco del genere se no che finale di merda ottieni tipo dittatrice illuminata uccide tutti questa casa futuristica mi sembra molto stile anni 30 o quasi quindi vediamo un po' dai che sono curioso della casa futuristica Patrick ci sei? sei curioso per la casa futuristica? a palazzo il duca ha un sosia uguale a lui per confondere gli assassini una mia amica lava la biancheria e dice che il sosia fuma se può aiutare forse potreste parlargli e pare che sia un bravo uomo che lavoro infelice fingersi un tiranno come il duca a vele è incredibile che la gente tolleri il duca ha un esercito controlla le miniere e godeva del vostro supporto dalla capitale alle feste del duca i ricchi dissanguano il paese mangiando granchio bollito c'erano feste simili anche a Danwell piene di leccapiedi pronti ad accoltellarsi alla schiena povera imperatrice io guardavo le luci di quelle feste dal tetto della macelleria abbandonata in cui dormivo nel distretto sommerso so che hai avuto una gioventù difficile giravo per Danwell a volto coperto ma quando mi stancavo potevo sempre tornare alla torre Karnaka mi ha fatto capire molte cose bene quando avrete eliminato il duca scoprite cosa custodisce per di Laila e prendetelo una volta finito vi recupererò con la barca ok vai top sembra uno speedrun controlliamo non vuole va bene allora una cosa che volevo fare è mannaggia ma quello è il quello è sono i commercianti quello che gestisce la bottega è nervoso ma se ci lasciassero scaricare la nave attendi ho un buon amico al negozio fornisce protezione da anni alle botteghe del mercato nero qui a bottegai quindi non ci sono rischi vabbè io allora andrò per strade un pochino più oh cazzo sono già le guardie sono ovunque queste guardie spero che accettino il mio trasferimento devo fare la strada fino a un altro distretto di sicuro ho visto qualcuno ma io salto via io salto sto giro corro sono troppo sicuro io vado da una chiudi merda o le mi sento un uscio vuoto si figa trucco vieni qui eh si cara mia vi ho belinato tutti tutti dalla prima all'ultima andate lì qua sti citrulli e voi che non volevate usare questo potere monelli eh si vi ho belinati tutti tutti adesso possiamo anche andare indisturbati fammi capire oh santo cielo un altro omuncolo mannaggia ste torrette dove è andato forza fatti vedere ti stiamo aspettando boh non so che cosa sta succedendo ma va bene così è un po' caotica eh sta partita io che di solito non faccio ste puttanate l'ho fatta va bene eh chiave del commerciante necessaria mamma mia quindi devo andare adesso ci penso io trovo un commerciante vado su e mi becco la runa apri qui ci sarà sicuramente qualcuno allora andiamo in giro così dai dove siete e adesso fatevi tutto un sonnellino ok saccheggia saccheggia c'è qualcosa da saccheggiare figa belli sti poteri c'è un cazzo da fare sto vabbè andando abbastanza pedal to the metal che volevo evitare ma va bene così dai per una volta andiamo un pochino più spediti almeno spero intanto leggiamo come gioco è figo non un capolavoro ma figo parlo di primo ovviamente può essere corvo emily ipnosi stava veramente diventando uno speedrun ma laura fino a che ora ti ha dato per giocare al master eh fin troppo poco ragazzi io se fosse per me giocherai molto di più ma eccolo qui una moneta d'osso no allora vediamo un po' mettete pausa le leggete pausa leggete vi voglio bene qui però non continuo a non trovare la chiave che mi serve e quindi la cosa mi preoccupa assai allora in teoria potrei già andare avanti ma stai fermo c'è ragazzi voglio trovare questa cazzo di chiave vediamo se ci sono altre rune allora c'è una runa là c'è una runa là e c'è una runa che cazzo porca ma che è successo mi sa che mi sa che ho fatto qualche errore o vado e chi se ne frega cioè mi fai ricominciare da qui non è che sono loro i commercianti hai la chiave no non hai la chiave ok gay dove cazzo cazzo è il commerciante là c'è una runa quindi vado di là aiutami se puoi sei davvero una brava persona sai ci vediamo prima o poi e dov'è che ci vediamo monello qualcosa mi dice che qua ci possiamo arrampicare ok aspetta proviamo di lì e qualcosa mi diceva bene figa conosco sto gioco ormai oh che bello devo stare attento a ste cazzo di torrette malefiche allora aspetta dov'è lì però devo andare dall'altra parte qui stiamo solo perdendo tempo adesso vi incazzerete però ragazzi ho bisogno di potenziarmi c'è un cazzo da fare facciamo ricaricare ole le case dopo un po' sono tutte uguali eh però c'è una casa così l'abbiamo trovata anche nel distretto di fronte a casa di Paolo Paolo non mi serve sbirciamo ok dov'è la runa di lì eh ok cesso è qui di fianco 40 metri non ho capito perché non apre la porta però vabbè pazienza ce ne faremo una una ragione tipo così ole qui ok non si sblocca dove cazzo è sta runa ok qui c'è questo palazzo quindi forse è il caso di tornare su ce la faremo ragazzi ce la faremo adesso andiamo lì che cazzo è successo fan chiappolo ok va bene figa guardate sti maledetti ma dov'è sta runa di merda che mezz'ora che giro è lì ok allora proviamo lì non fate casino mannaggia non ci posso fare niente parca misera ti odio mi tocca ucciderti perché sei uno stronzo oh avete rotto le palle dove siete ma guardate oh cazzo ma è qui la runa almeno no è pure qua ah è lì è lì è lì è lì guarda mi ha rotto il palle guarda ti uccido perché mannaggia te va dentro ma che cazzo fai oh ancora maledetti voi per una cazzo di runa dov'è la runa dov'è è qui il santo graal perfetto fate come se voglio rimanere qui ma non non troppo a lungo per diventare amici ok adesso occupiamoci di due di due stronzoloni intanto leggiamo che mossa devi andare dai tizi che parlavano con i commercianti che offriva protezione ti hanno rilevato parlaci con i tizi si ci parlo ma voi non mi vedete il punto è che cosa faccio leghiamoli speriamo eh ci proviamo ok saccheggia saccheggia qui come fare per basta ok adesso comunque era un amuleto finchè ho un amuleto me ne frega proprio niente allora diamo un'occhiata se c'è qualche altra cosa e poi andiamo via perché sennò perdiamo troppo tempo qua cioè tipo qua non c'era nient'altro no c'è un amuleto lì 70 metri ma devo tornare indietro mannaggia un bel chi se ne frega voi che ne dite vabbè dai una luna ce ne faremo una ragione perché non mi atterri di sopra allora aspetta perché questo è un salto olimpionico quindi direi che salviamo eh ok e voilà le jeu s'enfer adesso lì c'è dove vanno i cavi di questa roba qui ok ok oh merda 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 eh tu vieni qui non scapperai ahhh maledetto vabbè è capitato dardi pungenti porca troia Eva quando mi fa così in automatico quanti ne ho? sei vai stavano a bottere vero ok qui c'è il controllo da qualche parte mi resta di capire dove dov'è il cavo? ah è sopra ok ok va bene dovremmo esserci e dovremmo avere oh no finalmente oh stasera che gioco fai? stasera non ci sarà stasera Laura esige la mia presenza e la esige davvero anzi merda 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 capito la paga è la migliore in assoluto allora aspetta però perché sono tutte le aree lune sono tutte le aree lune e vai prova a investire qualche moneta tra gli ufficiali c'è una corruzione incredibile io devo andare dopo grande ma ok va bene ci siamo quasi eccola qua la villa da sugar daddy del duca il palazzo potrei trovare un altro modo di neutralizzare il duca tipo vediamo trova il modo di raggiungere il gran palazzo ok trova lo spirito di Delaya beh è anche un bel home no? o forse ora cerchiamo no no i civili identifica oppure identifica il sosio e sparali perché perché scusa? identifica ma perché questo? ah ho capito però è una brava persona seguendo un approccio non letare genere meno caos questo invece è letale ok dobbiamo identificare sosio me ne vado me ne vado ok ok ma dobbiamo dobbiamo trovare il posto di infil... ok siamo sul tetto un amuleto dosso nel paraggi vabbè l'amuleto si sono utili però runa ok mo ci proviamo piano piano adesso piano piano arriviamo a tutto ok quando la lotta per gestire le isole a quest'ora dell'anno prossimo potresti ritrovarti a capo di un indau o di un crime dove anche le donne ci rimanano oh cacchio che cos'è lì? cavoli però devo prenderne almeno due eh ragazzi io non ho mai capito come si fa a sforgersi ok piano piano ma porca vacca queste finestre tra l'altro non si possono aprire minchia solo con i suoi pensieri quante... che persona profonda mamma mia che mossa ragazzi ma quanto sono pro negli stealth non è vero eh me lo chiedo anch'io perché sennò fra poi oh cazzo dai ho voluto una bicicletta e ora pedala oh io non uso la bicicletta un servo che mi fa spingi mi serve aiuto qui ah meno male via anche tu qua con lui magari vi mariterete è impossibile è impossibile trovare un aiuto decente di questi tempi quasi quasi mi arraggio da solo tutte le settimane sulla bilancia come un toro da concorso a mettere su un chilo o due per restare pari al buon duca ok ok Perchè? Non ho capito ragazzi Perché me l'ha cancellato Ma non posso neanche estordirlo Vabbè mostriamo a vedere Sosia Boh proviamo senti Proviamo? Vabbè al massimo lo rifaccio dai Io l'ho sentito dire che Non era lui Fa un culo Perché mi ha usato il na Sei un coglione Cazzo Sosia Quindi adesso l'ho fatto Ok Speriamo bene Aspetta però perché voglio prendere ste cazzo di rune L'avete sentito anche voi no? Che lui si lamentava Cioè per quello mi ha pensato Allora dove sono ste cazzo di rune? Una è qua E una è qui Sbircia Ok Va bene così Ma cazzo ci arrivo a quelle rune maledette Vabbè qua c'è una cosa addosso Forse è il caso di prenderla e chi se ne frega Dai Almeno questo voi direte Ok Ora Ho visto qualcosa Soldi Big money Big money Prendiamo lo spirito di Delilah Che succede? Ok Vabbè Devo fare due chiacchiere con il fuoco Non sapere per niente Ok Sembra che il duca abbia dei macchino soldati di Gindosha No Vediamo cosa nasconde qui il duca Abele Mamma mia Cazzo Mi ha caduto pure il control Olè Tanto per farlo funzionare meglio Voi direte Ok Forse dovevi solo sparargli Bravo Ma Ma era lui Cioè me l'ha data come Perché c'è la X e non c'è la V? Boh Spero veramente Cioè c'è la V Boh Cazzo Devo muovermi Devo andare dietro e spingere Dai Su 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 Questa registrazione indica Ha una identificazione incerta Ok Va bene Non si sa mai eh A parte però Possiamo anche aprirlo Deve condurre al cavo del duca Ma mi serve la chiave E dove cazzo lo trovo la chiave Andiamo nelle stanze del duca Va bene Lo vediamo lì Devo fare due chiacchiere con il cuoco Non sapeva per niente di Ok Ragazzi se avete dei consigli Iscrivetevi Perché prima o poi Deus Ex E sai quante ne ho da chiudere Eh ma lo chiedo anch'io Continuo a chiederlo Ok Non posso fare niente per te Non posso aiutarti Ok Se non te ne ho Chiamerò aiuto Me ne sono andato È impossibile trovare un aiuto decente di questi tempi Quasi quasi Arrangio la scuola Era C'è nessuno? Non farmi cercare dappertutto Non ho tempo per queste cose Oh cazzo Cosa Adesso ci penso io Pezzaccio di cacca Comunque anche i cani dovevano Aspettati Eccoti Via Sembra che mi guardi Dentro Aspettati Io sto Vero Sono Vero 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 Come nuovo Senza vita Mi spiace Non volevo Però d'altronde Che cazzo devo fare? Dov'è la runa? Ok A parte che potevo mangiare un po' Sono stato proprio un pirla Ok Saccheggia 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 Mi spiace Non ti avevo ucciso Ma è stato È stata per colpa del cane Dove cavolo è? Io sono convinto che una runa sia qua C'è un cazzo Meno male che ho visto che c'è un coso blu Minchia Meno male Comunque questo potere è OP C'è un cazzo da fare Meno male che c'è qua Guardate Ora Il punto è che vorrei Sta cazzo di runa C'è tutto sto popò di casino Per la runa E io la runa Non la vedo Come faccio? Dai Dai Che mi serve la runa Niente runa eh Vabbè Torniamo un po' su Va su dove mi porta? Nelle stanze di chi? Oh santo i nomi Ok Tutto per arrivare allo stesso punto di partenza Chissà con che cosa ho a che fare Vediamo cosa sai Oh merda Un meccano soldato Sono fottuto Allora Stordente no Tagliente sì Dai Dai Ok Qui chi è che sta arrivando? Chi è che rompe i coglioni? Eppure Stava succedendo qualcosa Non era niente Mi stavo aspettando Vedremo Orca vacca Eva Monello Incosciente Perché incosciente? Grazie a Dio Raga sta finendo a merda Sto giro Questa è la stanza del Ducca Sì o no? Allora Nel dubbio Reindirizziamo Allora Naruna è lì no? Ok Qui è tutto fa Un momento Voglio controllare laggiù Laggiù dove? Chi sta parlando? Oh cazzo cazzo È entrata in combattimento Oh cazzo 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 Presenza non autorizzata La registrazione indica una giovane Porca troia Eva Armata Protocollo di combattimento 8 Puoi prenderlo? Puoi prenderlo? La registrazione Esecuzione Ma da dove è arrivato sto meccano soldato? Che mi sono perso? Che sto tipo fallendo Da dove è arrivato sto meccano soldato? Ma questo Allora Me lo vuoi prendere Stamina per favore Ok io vorrei sapere Perché Perché Allora Tianto facciamo X Che ne abbiamo bisogno Andiamo su Vai Sbirciamo Sbirciamo Che bel letto Che bel letto cazzo Ok Va bene Che cazzo Allora Salviamo Mamma mia Ragazzi Non mi sembra di Non mi sembra di averti invitato Era uno sparo No no Non muoviti Non muoviti Di Laila Copperspun Ok Ok Dove cazzo c'era la chiave Mi manda lei Scommetto che apre il cavo del duca E lo faccio addormentare E lo faccio addormentare Ok Stai bello sereno Apri la porta Il letto Il letto Il trombaletto Mi fa piacere Sì però io qui Porca Caccia Vacca Eva Non trovo ste Ste cavolo di rune Cioè mi fa piacere tutto Però vabbè Insomma Andiamo lì Però è La vita è amara Cavoli Una runa Almeno potevo trovarla Ok Va bene così Dai ragazzi Su Vediamo un po' Figa Non volendo Non ho fallito Ma sono riuscito a Cavo del duca Spero che abbia anche Piddu Oh santo C'era Ok Ora Devo cercare di capire Se Se ci sono Altre persone Registrazione Protocolli di combattimento Oh santo Cielo Penso che ce l'abbia con me Vieni qua Vieni qua T'aspetto Sì sì Vieni 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 pure tu Bella macchina Da combattimento Pagliacci Guarda qui Che ben di dio Ragazzi Che ben di dio C'è Aspettate Ma c'è Anche una runa Magari Io sono convinto Ci sia una runa C'è quella 26 metri Che chissà C'è questo è oro Ragazzi Perché il duca Tiene questa vecchia cosa È oro Incenso e mirra Ma è possibile Non mi possa prendere Un confetto d'oro Così mi ritiro Su un'isola No Vabbè Ci siamo Ci siamo Ma Di Laila Di Laila Di Laila Sei ciò che ho sempre voluto Sono rimasta quanto ho potuto Cercando di guidarti Ma Il mondo è migliore Grazie alla tua influenza Addirittura Minchia ragazzi Grazie al master L'avete sentita Sognate Bravo master Liberate il kraken Un fail Ti voglio bene E questo Non conta luna L'ultimo pensiero Che porterò Nel mondo È fatta Devo portare Il primo Di Laila Mi chiedo Se fosse davvero vivo Ok Cadiamo un po' Una runa Una runa Una runa Io voglio la runa La runa Una nolla Muleto Voglio la runa Mannaggia Eh Lo sapevo Che c'era qualcosa Qua dietro Sì però È porco Il pesce rosso Di Laila Copperspoon Ok Dov'è questa Cavolo di runa Per favore Voglio la runa Come faccio A recuperarla Vediamo un po' Andiamo via Sì 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 Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Dai piglia sta runa Ah cazzo Sto affogando Di qua Ok Chissà qua Da dove esco Merda ma Mannaggia Adesso Dove era l'altro Io dovevo aver finito Ragazzi Oh Perché no Mannaggia Ha i pesci rossi Quindi devo per forza Ucciderlo Ragazzi Ma gli ha sparato Sosia Dai Su Ma che cazzo fai Che palle Che palle Ma guardate Ma cazzo L'ho uccisa o no Eh niente ragazzi Mi tocca uccidere Quello vero Mi spiace Non volevo uccidere Sosia Eh figa Perdonatemi Era meglio Fare così Però adesso Di fare tutto Sbatti Vabbè Ok Fatto Pessimo Ma Va bene Ma Tu non vuoi morire Eh vabbè Ok Adesso ce ne possiamo andare Sì si poteva fare Ragazzi Scusate Ma sto giro È andato un po' così Dai Pazienza Ecco Ora aspettiamo Bottiglia vuota Anche la tazza? No la tazza Non posso Mi spiace Volevo Adottare l'altro approccio Eh lo so La runa La vita è amara Ma l'ho capito Perché se lo stordisci Non vale più Vabbè Cioè Mi sfugge Questa roba qui Cioè Come mai Lo stordimento Di una persona Di fatto Porti a Come faccio Potenzia L'equipaggiamento In botteghe Ok Dopo li potenziamo Non ho capito come Il cavolo Abbiamo aperto I poteri Vediamo Quali possiamo Utilizzare Abbiamo sei Potremmo fare Questa cosa Qui E questa roba qui Allora Facciamo Yes Yes Arrivo o no? Vabbè Ci devo andare a nuoto Ok Un parassita Ok Yes Sentite già più cattiva Ragazzi Mi avete segnalato Più e più volte C'è Angelo Fiumicane No Stava giocando Ad altro Mi avete segnalato Più e più volte Che la telecamera Ogni tanto Sfarfalla Io non so Da che cosa Dipenda Penso dal programma Non dalla Telecamera Quindi il programma OBS Ogni tanto fa Sfarfallare Sta telecamera Che dire Non so cosa fare D'altronde L'hanno appena aggiornato E ancora C'ha Sti mille problemi Immaginiamo Insomma Poco Va bene Sono cresciuta Con questo panorama Anche se le luci E i colori Sono diversi È danno Ma non lo è Sono cambiata io Oppure tutto Sembra differente Quando non indossi Una corona Qualunque sia Il grandioso piano Che hai in mente Di Laila Sei stata furba A rubarmi Questo luogo Sapevi Che poter Corrompere Tra i miei uomini E mi hai tolto Il mio miglior alleato Mio padre Ma non mi conoscevi Hai visto soltanto Una principessa viziata Non pensavi Che avrei lottato Non mi conosci Di Laila Ma presto Lo scoprirai A posto Dai È cazzo duro Succede da quando Hai avuto problemi Con COD No ragazzi Adesso funziona Anche bene Purtroppo dovete È il programma Che fa fatica Donel Dai Il mio ritratto Sai dove andare A cercare di Laila Ma come la affronterai Spero bene Che tu abbia Un qualche tipo Di piano Non sarà facile Potrei essere Costretta A combattere E Di Laila Merita Ciò che riceverà La vita Mi ha insegnato A non impartire Simili condanne Come ti ho detto Tanto tempo fa La conoscevo La sua anima Era Ferita a morte Ma astuta E in cerca Di un modo Per riprendersi Forse più Di ogni altra cosa Di Laila Aveva un grande talento Nell'immaginare Un mondo migliore Se solo Lo avesse concentrato In qualcosa Di meno distorto Probabilmente È tardi Per i rimpianti Sì Hai ragione In ogni caso Devi fare attenzione Ormai non riesco A non preoccuparmi Per te Addio Anton Perché addio Se siamo fighe bestie Ragazzi Allora Qui sento Una runa Megan Ti aspetta fuori Sul ponte Prima sembrava Inallerta E vabbè Sono qua dietro Due amuleti Monelli Più del solito Addirittura Mamma mia Andiamo La chiama Io mi chiamo Billy Lurk Tutti hanno i loro segreti Ma ho l'impressione Che tu debba dirmi altro Sì Faccio fatica a parlarne Ma meritate la verità Ve lo dirò 15 anni fa Ero in una banda di mercenari Pagati per uccidere Certi lo meritavano Altri invece no Il capo mi aveva salvata Dai bassi fondi Non avevo nulla Neanche la speranza Io È difficile ammetterlo Qualunque cosa sia Avanti Parla Il nostro capo Era l'assassino Daud Ed ero nel suo gruppo Il nostro ultimo lavoro insieme Ci avevano chiesto di Hai aiutato Daud A uccidere mia madre Sì Non so che altro dire Da tempo non desidero altro Che poter cancellare quel giorno Ma non posso Ok Non potrò mai perdonarti Per quello che mi hai fatto Ma la sofferenza cambia le persone Sei una donna diversa Da quella di allora Wow Sì Ares Deis Succede quando hai avuto problemi con Kod Ma non fanno ciò che ho fabbligo E non diventano ciò che è ora di Laila So che non lo dimenticherete Ma neanch'io potrò farlo Me lo auguro Addio Billy Prenderò la barca E proseguirò da sola Ma prima Ferma Adesso ti rubo tutto Per punizione Apri Guarda sta monella Che teneva tutte ste robe Eh Infatti Questa è la maschera Ok Ok Olè Et voilà Ci andiamo da sola Ma davvero Se il vecchio Samuel potesse vedermi Eh Va bene intanto Madonna che bello Collegati Collegamenti infiniti Con i vecchi DLC Ragazzi ma lo sapete che io non penso di aver giocato un DLC di Dishonored Nonostante mi sia piaciuto Perché DLC mi ha lasciato sempre un po' basito C'è solo un DLC che vorrebbe giocare nella vita Che è quello di Bioshock Infinite Tutto il resto È noia No non ho detto gioia Riportamene alla torre di Dunwall Riportamene alla gabbia del mio petto Oh lo farò Di Laila tornerà mortale Hai lasciato che tua madre scivolasse nel lombino La mia è finita in una barra per bambini Con le gambe ritiegate perché non potevo permettetemi una degna sepoltura Mentre mio padre riposa nella critta imperiale Stai mentendo Non vuoi ancora accettarlo ragazzina Tuo padre non era nessuno Abito il cuore di tua madre E il mio corpo cammina per le sale del tuo palazzo in rovina Dormendo tra le tue lenzuola Se ho imparato qualcosa a Carnaca È che il diritto di governare non dipende dalla nascita Va guadagnato giorno per giorno Servendo i bisogni del popolo Sto venendo a porre fine alla tua tirannia di là Sì Mi Guarda mamma mia adesso Ma qui è da dove ero scappato Mertaccia Però non avevo la becco di un potere Invece adesso Mega power up Vabbè Ok Dai Come si fa Un potere che ho sviluppato Dai C'è una runa eh Monelli È proprio qua Qua dentro Come faccio? No ma davvero Vabbè chi se ne frega dai ragazzi Cioè dovevi uccidere tutti Dai Ma che cazzo sta cantando? Figa Figa Ha tassonato sto posto in un incubo E' impazzita Va bene No mi fa piacere eh Mi fa Cioè mi fa Mi fa piacere Domani live master Non lo so Non penso proprio Ah forse si perché Arrivano dei miei colleghi Mi hanno chiesto di 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 apparire live Pazzerelli No Figa Mi sembra pazza E' qua Devo trovare il modo di andare su Vediamo eh Chi è il bastardo dagli occhi verdi Doveva essere qui un'ora fa Chi è il bastardo dagli occhi Non ha alcuna magia Potrei piantargli un paletto nel cuore Olè Ma non sono io il bastardo Ovviamente Muscoli della sua schiena Ogni volta che lo accolgo Dentro di me Non riesco a pensare Ad altro per giorni E' una pazza Non ho mai visto Un uomo col fianchi Ma pagherà Per avermi fatto aspettare Farmi aspettare Eh si Cara mia Benvenuta Ma Ci proviamo Perché voglio andare A prendere almeno Quella runa Una volta se volevi fare un bagno Ti tuffavi Vorrei che sopporte Deve essere da qualche parte Ho pagato parecchio Per la soffiata Vimiro giù Nelle miniere Oh cazzo Dove le notti E' qui Sento l'odore dei soldi Controlla dietro i dipinti Minchia il cappellaio matto Che si è dato la mala vita Guarda te Ma che fine hai fatto? Porca troia Sembra che non sia Il tuo giorno fortunato Neanche il tuo Sei per quello Stronzo Ma mi hai fatto sciupare Del mana Grazie a Dio L'avevo visto qua Ok Però ma hai parlato Di soldi Quindi Visto che abbiamo Un interesse Comune Ce l'abbiamo Comincio a pensare Che la runa Sia in verità Il soldo Oh Top Volè Di Laila ti sta aspettando Sinceramente a più mi piace Musica inquietante Una canzone orecchiabile Domani live Perché un pezzo di lei Tutti puoi rileaggere Le stesse cose Sono vecchie La sta chiamando Patrick Meno male che ci sei tu Angelo mi Prova lo stesso Prova lo stesso desiderio Ma combatterà Fino alla morte Per impedirti Di rimettere Il suo spirito Al proprio posto Sei stata cauda Carnaca Vediamo come te la caverai Nella torre In cui sei nata Di Laila Ha in mano il trono E tuo padre Ma Nasconde anche un segreto Che segreto nasconde Vabbè quella runa ormai La do per persa Oro 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 Mangia Mangia Vedi è buono Ok Quindi Tornando di qua Quindi devo andare Verso di lì No Ma Da qui non ero uscito io Ragazzi io ero uscito da qui Sono quasi sicuro Ve lo ricordate? Ve lo ricordate o no? Ok Mamma mia Quindi niente Il mio Qui c'è stata una battaglia Non ho capito per cosa Questo cos'è? Corpo Vabbè Dai Scendiamo Va bene Dai Andiamo Chi è che mi scrive? Ok Quindi ho ucciso tutti Vedete che mi ricordavo? Ed è stato il venerdì fa Che qui ho ucciso la mia prima persona inconsapevolmente Via Che straccia è fatto Ho ucciso tutti Ma davvero? Severa ma giusta Quasi quasi mi allevo con lei Sì Vai alla torre Speriamo Mattia Angelo Che cazzo Vabbè Hai detto che probabilmente non lo fa Mattia Il monello di un master Ma di che state parlando? Di quale gioco? Di mafia? Ragazzi Dovete anche Darmi il tempo Ce devo finire un gioco alla volta Questo qui È uno dei giochi Che mi sta più nel cuore Se perdonate Tra mafia e questo qui Per me Non c'è paragone Troni Non ci sono paragoni Guarda qui Quanti ne ho uccisi Portiamoci dietro lui Come souvenir Mamma mia Mia Ma proprio tutti li hanno uccisi Eh Eh mi sa che Manca l'elettricità Ci pensa il buon vecchio fra Tira Dai qui Ficca Riempi Olio di balena Vai Vai A posto così Questa carrozza è stata tipo Merda Che storia Ah micchia Guardate Qui c'è tutto Evidentemente Li ha pietrificati tutti Che amarezza Ok Ok Dai che nessuno mi vede Dai che nessuno mi vede Uuuu Adesso gli palpo il culo Eh sì Cara mia Sei stata Faccappata Eh sì Sbirce Minchia Che laboratorio Vabbè Non li voglio distrarre Perché secondo me Si stanno divertendo Però Cerchiamo di entrare In qualche modo Dai piano piano Cacca Ecco il punto Ecco il punto in cui Sbaglio sempre Toccare tre volte L'osso Chi è Non ti voglio Ti va là Non le serò Che più Venga un vecchio Chiodo nel piede Olè Lo sapevo A volte potete farlo In disanno Quando avete una porta È tipo livelli Quindi Toh Affronta l'imperatrice Ragazzi ma Ste streghe Sono veramente La morte Sono tutte lì Tra l'altro Master Ma quando fai Rainbow Rainbow Raga ma sono usciti I nuovi operatori Pensa che Io manco me ne sono Accorto Vabbè Ragazzi Ce la faccio E Laura non rompe La faccio Dopo Dopo aver finito Questo Ok Stiamo mezzati In collonito Dopo l'assalto Voglio che venga tolta La corrente Per dare energia All'ascensore Devo raggiungere La stanza Della sicurezza Non la vedo bene Merda Tutte le sfere Oltre Vai a dare Un Che Allora La stanza Oh Dai Perfetto Ole Questo potere Allora Dove cazzo Era la Ma dove Era la La chiave Pensavo fosse qui Invece Se avete un cazzo Figlia Ragazzi Che Che situazione Però c'è Una L'alto Sacerdote Lì c'è il cane Ragazzi Lì c'è il cane Figlia Ma cosa hanno fatto Qua dentro C'è Incredibile Proviamo così Vuole Ricarica Sono già usciti I nuovi operatori Scusate Non Ho capito un cazzo Mangia Strano come si muove Come un uomo Ma diverso Eh Nelle sue vele Scorre olio Ricavato dal grasso Dei leviatani Delle profonde Acque gelide Non ha niente a che fare Con la magia Della nostra Non è toccato Dallo mio Mi chiedo Se potremmo Piarne Un nucleos Come i mastini Cazzo Anche il meccano Di Laila potrebbe Con l'aiuto di Brianna È sempre stata Merda Come faccio Devo potenziare L'occhio fotonico C'è un cazzo da fare Ce l'ho Abbastanza rune Una Eh in verità L'avrei potenziato Quello era definitivo Ce l'avevo Non sapevo neanche Di averlo Visione scura Potenziata Salviamo Perché non so Ma dai No non è possibile Dai Porca giuda Faust Fammi passare Chi è Chi è che m'ha visto Dai Olè Peccato che debba Ripassare Per Delis Ok Se è possibile Si Oh merda 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 Che succede Questo sembra interessante Riempirò il cuscino Con i tuoi capelli Come porta fortuna Non mi sfuggirai Perché cazzo Non viene ipnotizzata Perché non viene ipnotizzata Merda ragazzi Scusate Sto veramente Non mi piace Questa luce fredda Ok E' il meccano Che comunque Mi Mi spaventa Ma dove cazzo è C'era qua sotto La runa E' giunta La tua ora Troppo tardi Per fuggire Zitta Questa mi sa che Si è buggata Vabbè Pazienza Buggata Figa Quei meccani No Dai ferma lì Dai vieni Ma come Porca di quella troia Non volevo uccidere lei Volevo uccidere te Ok Dai Ah Bambagno ragazzi Eh non volevo Amica mia Ho sbanfato Che ti devo dire Mi perdonerai un giorno Voglio sperare Nell'aldilà Va bene Sono usciti Sono usciti Sono usciti o non sono usciti Master Non sono usciti Fanno solo una presentazione Del DLC E basta Ma quando è che escono Tu lo sai Mattia io percepisco Che tu lo sai Dai ritorniamo All'ascensore Ok Tutto mio Va bene Va bene così Fuggiamoci Nella merda Dai Oh merda No Dai Merda Sarà il trono Ragazzi Mamma mia Speriamo non sia troppo difficile Mi sa che Non si sa Master Forse dicembre Ma stai parlando di quelli giapponesi Vero Vai sul tetto E la dora Dai Ce la faremo Torre Dovrei esercitarmi un po' Perché il rainbow Effettivamente È da tanto Non ci gioco Poi ti abitui Allo stile di gioco Di un altro gioco E Terribile Mi riporterai indietro E morirai Per mano mia Ok E lì c'è la naruna Pazienza I cani Sono terribili Perché fanno Un sacco Di casino È lì No È lei Vabbè Allora entriamo Dalla porta principale Cosa ha fatto Di Laila Al mio trono Lame De che? Ma perché? Senti Facciamo così Ma dove cazzo sei? Ma dove cazzo sei? Mazza ma non ti posso Uccidere Proviamo così Allora proviamo con la pistola Merda ho finito la pistola Mannaggia Cuore Ragazzo Ragazzi qui secondo me ho bisogno anche di più poteri Allora vediamo Vigore Vitalità Riflessi Agilità Morte invisibile Creazione da muletti d'osso Se ti rissano anche quello poteva essere Li ho sempre cagati di strisce invece Vigore No ragazzi Non lo so Ragazzi qualcuno sa come si fa Che cazzo sei capace O Che cazzo sei capace Che cazzo sei capace Leggine Dove cazzo è? Ma come si fa a uccidere, ragazzi? Ci sarà un modo Ok Dai Oh Perfetto Seguimi, cara Emily E vedrai come rimodellerò tutto quanto Cosa sta facendo? Cacca Cacca Seguiamola? Dai, sì, seguiamola Che fa? Entra Cazzo, c'era anche un altro modo Sono un coglione, mannaggia me Oh 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 Ammazza la vecchia Porcaccio Ok Andiamo in un verso di qui Potessi tornare indietro Proverai il modo alternativo Mannaggia Oh 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 Aspetta perché volevo vedere se riuscivo Aspetta Carica partita Non l'ultima delle Adesso Ma volevo vedere se riuscivo Voglio Voglio provarci ragazzi Quell'alternativa Quell'alternativa Sperando di Lo so che mi tocca rifarla ma Amen Voglio provarci Ole Ole Questa parte l'abbiamo già vista Ok proviamo a vedere se c'è una strada alternativa Trova un altro modo eh Vediamo Adesso il cuore ci ha fottuto Proviamo a vedere se Fica ha distrutto tutto È riuscita a A trasformare un puttanaio Tutto Oh Ragazzi Che tristezza C'è proprio uno schifo Ma lei li piace Abitare così? Ok Ok Abbiamo un occhio qui Qui ci deve essere una risposta dai Le streghe Le streghe hanno preso tutto È tutto sparito Che monella E quindi che cazzo faccio? Cioè Cioè guardate che puttanaio mi hanno No Wow Wow Questo? Soldi Che me ne faccio? Che me ne faccio visto che apparentemente siamo alla fine del gioco Però la completezza Completezza Questo non si apre Vediamo se da qualche indizio Obiettivi Potrebbe esserci Potrebbe esserci più di un nob Seguendo l'approccio non letale Ok Quindi dove cazzo sarà l'approccio non letale? Ci deve essere una risposta qua in giro Diamo un occhio Ok È ancora valido no? Lo posso ancora fare l'approccio non letale Sì Magari se mi aiutasse dicendo Guarda devi fare questo Deve fare quest'altro Forse Sarebbe meglio no? Chi la vuole seguire nel dipinto? Mamma mia Vai a casa sua? Sto pensando ragazzi Non lo so Non lo so Non sono molto convinto Cioè in teoria potrei uscire anche di qua Qualcuno lo sa Qualcuno lo sa qual è l'approccio non letale? Qual è l'approccio non letale? Qualcuno lo sa? Qualcuno lo sa? Qualcuno lo sa qual è l'approccio non letale? Qualcuno lo sa qual è l'approccio non letale? Qua cosa è l'approccio non letale? Ok L'approccio non letale Raga datemi una mano Che non ce la faccio più Non ho voglia di affrontarla Eppure sarà una stronzata Che più stronzata non si può Raga Qualche info Dai qualcuno lo saprà Mannaggia però Cioè anche loro potrebbero dare qualche informazione Viene un caldo atroce Potrebbe esserci più di un modo di affrontare E qual è il più di modo? Cioè com'è? È in un'altra dimensione Io chiuderei lo spazio di Incorre... Cioè interrompendola Intrappolandola nell'altra dimensione Però Sta luce Potrebbe essere la risposta Tipo se sparassi nella luce No il cuore non ce l'ho più Quindi ci sarà assolutamente un modo Mi sto chiedendo qual'è Oppure distruggere qua? Raga Se lo sapete Ditemelo Perché sennò Wolf Lion Ci sarà un modo Tipo gli Gli mando dentro un Gundam Brucio tutto Ma si potrà bruciare tutto? No Come faccio? Come Chiavolo Faccio Allora Master Non so Ci sarà un modo Dai Non ci posso credere Che non ci sia Sta luce maledetta Sta luce maledetta Come facciamo? Non lo sapete? Vabbè dai Andiamo dentro Ad affrontarla Che palle però Aspetta Aspetta perché Vi giuro Sono troppo curioso Cioè nel senso Mo' vediamo Proviamo a vedere Vi giuro che sono proprio Aspetta perché forse l'ho trovato Incredibile Incredibile Vediamo un po' Ragazzi resistete Che sono curioso Come si fa ragazzi? Le ho già detto mille volte Che deve imparare le parole E pronunciarle correttamente Altrimenti l'incantesimo Non funziona Non importa Quante penne d'oca Ragazzi Puoi farcela La forza sta nella tua parte Ma perché devo ucciderla Come una povera stronza? Allora Li leggiamo bene Trova un altro modo Per eliminare Quindi Per forza Di cose Non ho capito Ok vediamo Ok vediamo Morto Non volevo affrontare Vabbè dai affrontiamola Chi se ne frega Dai lasciamola lì proviamo una via alternativa ok voglio uscire adesso vediamo se mi rincorre poi niente però raga che cazzo io non volevo affrontarla allora fermi tutti petta 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 OLE! C'è qualcosa che non mi torna però Ci sarà qualche modo per farla fuori Il trono Ma chi se ne frega Succhia Ok Vi è successo qualcosa? Oh hai rotto il cazzo eh Ma porra Un troppo di campagna con i testi No 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 aspetta aspetta perché voglio... voglio portarla di là Voglio vedere se... Ma perché è morta? Master riesci a spiegare in inglese a questo utente che cosa stai facendo? Non so parlarlo Uh... I don't understand what... Ehm... I don't know why you are following us on this channel We don't speak Russian and here is... it's all in Italian so... Probably you should... Reconsider your subscription here on this channel Ok... 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 Oh... Oh... Vai... Oh... Porca puttana Mi prenderò... Tutto quello che mi è stato stralappato Noi... Hoca! Ko! 3 3 So Ci riprovo. Esci. Replica senza vita. Ok. Quindi abbiamo sbagliato tutto. Dobbiamo rimanere di lì. No! Non è giusto! Hai causato troppa sofferenza per restare in vita di Layla. E quindi? Vabbè sarà una fine di merda. Vabbè. Che vi devo dire? Proviamo un po' a vedere. Padre. Cos'è successo? Ora sediamoci. Ti spiegherò tutto. Eh vabbè. Però lo stesso non è... Non è stato una... Non dovrebbe uscire una... Una fine lurida, eh? Vediamo. Dopo aver affrontato un nemico soprannaturale, l'imperatrice e il suo protettore reale videro un alleato nella pazzia dell'uomo qualunque. I sacerdoti e le sorelle dell'ordine oracolare portarono pace, purezza e tradizione a Serkonos. A Downwall, in seguito alla morte di Layla Copperspoon, la congrega perse i poteri e il suo effimero colpo di stato terminò. La legittima imperatrice tornò sul trono e iniziò a placare i disordini in città. Pertanto, Emily la giusta, Emily l'intelligente, seguì un proprio destino, governando per decenni sull'impero con Corvo Attano al suo fianco. Ai suoi tempi, Anton Sokolov aveva fondato l'industria, traghettando l'impero in un'era sofisticata. Aveva frequentato nobili, artisti ribelli e grandi inventori, godendo di ciò che la vita aveva da offrire. Lasciata da Downwall per l'ultima volta, si recò nel frutto nord, finalmente soddisfatto verso un ultimo viaggio verso casa. Certe cose non cambiano mai, nonostante innumerevoli tentativi. Ci sono domande a cui rispondere. Quando Megan Foster svanì dal mondo, dalla sua ombra è Mercedes-Benz Newark, che partì per cercare una propria identità e qualcuno che fosse per lei una famiglia. immaginavo la fine un po' migliore. Non si dice un po' migliore, lo so, però voglio dire, come sappiamo, queste storie di Dishonored non sono capolavori, cioè sono di solito storielline, se proprio ve la devo dire tutta, però in effetti il gioco prende, cioè vi divertito un sacco. Infatti l'abbiamo fatto tutta nella tirata, quindi sono molto contento di averlo finito. Adesso farò passare un periodo e probabilmente proverò anche a rifinirlo se mai avrò tempo con altre modalità. Che dire, ragazzi? Quindi già finito, incredibile. E vabbè. Ragazzi, io vi ringrazio perché sono abbastanza al mezzo rincoglionito, quindi vi ringrazio di essermi stati qua, di essere stati qua insieme a me, di avermi dato tutto il supporto e spero che riusciate a guardare questa serie, che questa serie riesca a raggiungere un numero sufficiente di views. Io vi do appuntamento alla prossima live che ad oggi non so ancora quando sarà, quindi grazie ragazzi, grazie. Io apprezzo veramente tanto il fatto che mi state vicini, il buon Patrick che c'è sempre, il buon Wolf Lion, tutti veramente. Grazie, grazie di cuore e vi do appuntamento alla prossima volta.